è bella ragà qui è mercodì ed oggi siamo su minecraft si siamo in compagnia di nome ovviamente allora come vedete siamo riusciti si ci siamo riusciti veramente perché mi ha distrutto l'armor stand che era qua non si è distrutta da solo si è vero comunque oggi siamo sì va bene comunque oggi siamo nella 1.2 di minecraft come vedete ci sono un sacco ma cosa che casino è fatto ci sono un sacco di novità allora guardate iniziamo con i boschi prendiamone che ne so qualcuno il disco 11 par è perché è bello ok prendiamone iniziamo a sentire il disco numero che succede ascoltiamo ok ci sono le armor stand che si possono mettere le cose ok oggi sono gli stellardi colorati adesso vi mostrerò una figata che hanno aggiunto ah intanto guardate qua c'è la mappa esploratore e qua c'ho la cassa bonus che potete aggiungere così basso ah sono i pappagalli vero e basta pappagalli basta allora guardate intanto qua potremmo cercare cerchiamo standard ok allora guardate se noi prendiamo uno standard bianco prendiamo un colorante se io prendo questo ad esempio metto lo standard qua e guardate un po potremmo fare infiniti standard adesso non sto lì a fare se volete ci fare un video a riguardo ma per adesso no comunque abbiamo i pappagalli che belli guardate che belli che pucciosi e poi ci sarò anche i metri colorati che belli e adesso e poi c'è altra cosa buona aspetta che levo quello slime schifoso muori muori e vabbè guardate che bello sto pappagallino si potranno domesticare con i semini adesso non c'ho voglia però si può fare una volta domesticati quando voi ci passerete sopra saliranno automaticamente nella vostra spalla poi un'altra cosa che non potete notare però guardate se voi distruggete un vetro se vuoi distruggerete se lascerete un vetro colorato così o un vetro non male si comunque saranno così e va lo stesso per le gabbie guardate un po cioè le linghiere aspetta prima vi faccio vedere come c'è ma no ci sono sempre state e infatti guardate ok adesso passiamo alla seconda parte dell'aggiornamento si c'erano si c'erano l'uomo ok poi devo spiegare una cosa sul cross ragazzi ecco questi sono i tre server nuovi cioè abbiamo l'alpha 2 no 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 non sono nuovi sono solo all'inizio però come potete vedere allora entriamo sui pvp che hanno una connessione no 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 si 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 perché effettivamente se c'è un bug e oltre a questo c'è un bug che ti fa scomparire ti fa scomparire l'equip e nel myplex ok allora veniamo a se ci incontri ah io mi hai fatto quale vabbè comunque allora io vado a giocare cake wars cake wars no giochiamo a nascondino aspetta dov'è insieme cos'è inter games come si chiama come si chiama block hunt quello la con il blocco di terra mi ha tippato qua non ti ho tippato no sono attraversato un portale e mi ha attraversato qua ecco brava quale portale quello azzurro ce ne sono i portali azzurri sono anche qua ah no ma ho tippato solo un pochino più la allora dai vieni dove c'è il blocco di terra questo partito non si può purtroppo non siamo insieme però chi se ne frega io sono un blocco di pai aiuto ah io sono invece uno che nasconde ah devo comprarmi le cose io ok mi sono presa un po' di robe andiamo ad ammazzare vediamo ora non siamo purtroppo nella stessa partita però chi se ne frega e adesso mmm io sto cercando qualcuno perchè non sono purtroppo ho messo in su che sembra un sospettore un po' ma aiuto mi sto seguendo io seguo le altre perchè ok raga con questo mi sto prendendo mi dimmi è troppo noiosa va bene aspetta devo fare la outro allora bene raga per questo video era tutto se vi è piaciuto lasciate un bella ah mi sono dimenticato di dirvi una bella cosa se non lo sapete già hanno abilitato il crossplay cosa significa che adesso quelli di xbox one eeeh wii uu nintendo switch eccetera e windows 10 edition possono giocare tutti collegati e pocket edition non ci riusciamo quindi noi ci vediamo al prossimo video bella raga ciao 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 ciao